È una merda essere grassi. Ci sono solo tre vantaggi. Ti fanno sedere davanti in auto. È molto più difficile rapirti. E se cadi in acque fredde, sopravvivi più a lungo. Ora, quest'ultima non la so per esperienza diretta, la so perché ho letto un articolo su questo obeso che è caduto nelle geli di acque islandesi ed è riuscito a sopravvivere per qualcosa come sei ore prima dell'arrivo dei soccorsi e non riesco a capire perché quest'uomo non si è diventato il testimonial per eccellenza del body positive. Com'è possibile che nessuna grossa azienda di cibo spazzatura le abbia fatto fare uno spot? Se ci pensate si scrive da solo, c'è l'obeso di spalle che a un certo punto si gira e fa quel giorno sarei dovuto morire ma per fortuna ho detto sempre no alla lattuga McDonald McDonald Grazie.